Un'iniziativa molto importante, un convegno nazionale che si tiene all'interno della fondazione e la conferma che questa rivoluzione di cui si parlerà in questo convegno è già iniziata in fondazione da un po' di tempo. Tra l'altro ci sarà anche un ulteriore momento importante per gli operatori del terzo settore anche il 9 di maggio perché ci sarà un altro convegno sul terzo settore che sottolineerà l'importanza degli operatori a strutturarsi e ad adeguarsi a quella che oggi è una normativa molto innovativa che impone però a queste strutture che spesso sono fragilissime di strutturarsi, di organizzarsi, di mettersi insieme e di fare un cambio di passo perché bisogna condividere anche con gli altri operatori che operano nello stesso ambito, nello stesso territorio un'iniziativa che è certamente più impattante, che è certamente più efficace rispetto a tante piccole attività che vengono fatte in modo episodico, occasionale. Uno degli esempi più importanti ancora in atto è quello del crowdfunding. Sì, il nostro convegno del 9 di maggio proprio si inserisce in questo filone perché a giugno scadrà il bando per consentire agli enti del terzo settore che vorranno presentare dei progetti innovativi alla fondazione. La fondazione ha messo a disposizione 100.000 euro e raddoppierà i fondi che questi soggetti saranno capaci di raccogliere sul territorio. Quindi questa è la garanzia anche per la nostra fondazione che i fondi che noi mettiamo a disposizione sono fondi che vanno nella direzione di progetti che hanno ricevuto la condivisione del territorio e che quindi danno risposte che le persone sentono, progetti che sono appunto validati dalla comunità. Un convegno promosso dall'ACLI insieme alla fondazione Carifano, alla fondazione Liberamente, il CSV e il forum del terzo settore su tutte le innovazioni che la legge ha appunto introdotto per quanto riguarda la collaborazione delle associazioni con le istituzioni che si interessano dei servizi sociali. Il senso di questo convegno? Ma io dico solo questo. Nel luglio del 2020 la Corte Costituzionale ha approvato una sentenza che lo stesso Presidente della Corte, Giuliano Amato, ha definito storica. La sentenza mette in capo una norma praticamente che dà al terzo settore e alla pubblica amministrazione alla pari l'obbligo, diciamo, la finalità di sostenere il bene comune dei propri territori. Come si calano nel territorio queste innovazioni che la Corte Costituzionale ha introdotto per quanto riguarda i rapporti appunto nei servizi sociali? Si applicano praticandole e si applicano provando a fare come si fa qui a Fano grazie alla spinta della fondazione, delle ACLI, del forum del terzo settore si prova a ragionare insieme su quello che è il caso di fare anche concretamente con la coprogrammazione delle attività di risposta ai bisogni del territorio e con la coprogettazione degli interventi. L'ambito sociale 6 sta già facendo coprogettazione con diversi enti del terzo settore. La fondazione con la sua proposta di crowdfunding va in quella direzione. A livello nazionale ne succedono tante di queste prassi. qualche regione ha già normato, speriamo di riuscire anche noi a portarci al passo coi tempi.